Siamo partiti bene, abbiamo fatto un gol, poi di nuovo era paraleggio, poi Roby ha fatto un grande gol. Alla fine non si può prendere un gol così che ci taglia le gambe perché eravamo già tutti con la testa che l'abbiamo vinta e purtroppo è successo quello che è successo. Sono contento che il mister mi ha dato fiducia, giocare con Angelo è una grande esperienza, lui è un giocatore fantastico quindi mi ha aiutato sempre, siamo stati fortunati che all'ultimo avevo preso gol. L'atteggiamento avevamo giusto anche nel secondo tempo, nella scorsa partita, anche oggi, ma credo se ci mettiamo ognuno qualcosa in più possiamo fare ai punti anche con le grandi squadre.